Cari amici, questo può essere, potrebbe essere l'ultimo video di oggi perché d'altronde poi non ci sono grandi avvenimenti sportivi oggi, tanto ieri c'è stato un grande contributo sul mio canale, oggi vi sto proponendo altre cose, penso di fare questo all'80% ultimo video e poi dedicarmi a delle altre cose, altri impegni, mansioni. Allora, come dice il titolo, il quesito, punto interrogativo, quale tipo di spettacolo e di intrattenimento vi piace? Chiedo a tutti appassionati di voi di YouTube, chiedo questo, perché tutti quanti noi sicuramente abbiamo delle passioni a cui siamo legate, che possono essere lo sport, il teatro, la musica, il film, i film, il cinema e quant'altro. Io per esempio vi parlo che ho innanzitutto scoperto per caso il teatro praticato da parte mia per cinque anni qui a Trani con un'associazione culturale e teatrale Marluna Teatro, ho fatto tanti spettacoli, tutti bellissimi. Ringrazio tutte le insegnanti che mi sono stato il mio sostegno, sostegno dei gruppi che io facevo parte. Il teatro come anche io mi sono avvicinato anche un po' al cinema, diciamo, ma non come attore più da, come posso dire, seguitore da fan, perché qui nella nostra città di Trani abbiamo il Circolo del Cinema, Dino Risi, grande attore e regista, quindi l'ho frequentato, il proprietario del Circolo mi faceva, sono stato accolto bene, ho visto delle proiezioni, certo, purtroppo i tempi sono cambiati, sappiamo siamo in pandemia, quindi insomma poi ora si avvicinano i tempi un po' più freschi, per non dire freddi, a fine mese cambia l'orario, un'ora indietro, quindi farà buio prima, ho giocato a basket nella fortitudo basket Trani, ho fatto solo due anni di giovanile perché ho scoperto il basket in tarda età, però ho fatto anche un esorde in Serie C, una ventina di secondi circa, mi ricordo era non la presidenza della fortitudo che c'è dal 2013, ma quella prima, partita contro il Fasano, questi venti secondi circa realizzai anche un canestro, beh ovviamente anche le amicizie con chi ho frequentato la scuola superiore, sono rimaste nuove conoscenze anche con il gruppo spirituale, per esempio del rinnovamento dello spirito santo, movimento carismati, preghiera carismatica, per quanto riguarda i videogame, i videogiochi, non sono un grande accanito dei videogiochi, come ho detto nel video precedente, diciamo che sono rimasto ai tempi un po' PS2 e PSP, quindi mi accontento già dal computer o al cellulare con cui vi regalo questi videoclip, seguo il calcio, seguo il basket, poi tramite diretta, seguo un po' diversi sport, un'altra delle mie passioni è il wrestling, la seguo non tutte e tutte le federazioni, ovviamente tanto 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 la WWE, l'All Elite che mi sto incominciando, la sto incominciando ad apprezzare sempre di più, Impact conosciuta anche come DNA diversi anni fa, c'è la Ring of Honor, c'è c'è stato al suo tempo luce underground, insomma, quindi secondo me la vita in generale bisogna viverla ovviamente con degli obiettivi, avendo anche delle passioni, tipo per chi ti fa calcio e magari Juventino, certo amerà Cristiano Ronaldo, io per esempio che dico Milan, ovviamente mi piace Ibrahimovic o per quanto riguarda il wrestling, se è una storia bella come anche l'incontro apprezzo tanto. Quindi se vi va commentate qui sotto ribadendo la domanda, quale tipo di spettacolo e di intrattenimento a voi piace, quindi finish the video quest'oggi, noi ci vediamo domani, buon proseguimento di giornata di settimana a tutti, ciao!